musica allora oggi facciamo la torta a caprese prendiamo il burro 250 200 di zucchero 5 uova 250 di cioccolato 300 di mandorle poi tritiamo le mandorle e sciogliamo le mandorle tostate adesso ho messo 100 grammi di zucchero col burro un uovo per volta nel burro e zucchero nel forno qualche minuto a 30 gradi si scioglie tutto mettiamo il cioccolato lentamente sciolto adesso butto le mandorle insieme all'impasto col cioccolato mettiamo le uova la parte dello zucchero ecco che ben impatto adesso metto l'albume poi metto lo zucchero un po' adesso metto lo zucchero dell'albume adesso mettiamo l'albume insieme mescolare delicatamente adesso mettiamo l'albume insieme mescolare delicatamente adesso mescoliamo tutto questo è tutto pronto adesso lo mettiamo negli stafili adesso si ungono e si infarina adesso mettiamo l'impasto dentro queste torte le trovate su block dolci la ricetta ci vuole un'ora a 180 gradi adesso la scuola è l'albume non ci vuole non ci vuole non ci vuole che si fa quali non ci vuole ma non ci vuole non ci vuole